E in questo, ecco, ti fa strano questo, che in questo mondo così cavalleresco, sull'immediato nessuno si rese conto che muore molti più bambini di terza che non uomini della prima. Di terza alla fine si salva chi? Chi decide di rompere le regole, chi decide di arrivare sul ponte per via traversa e senza aspettare il via degli ufficiali, senza aspettare chi riesce, insomma, in un certo maniera a rimboccarsi le maniche e a fare... E a prendere decisioni personali. E a prendere decisioni personali, ma ci sono in terza, veramente, sparisce, si può dire, tutto un paese dell'Irlanda del Sud.